Io credo che noi abbiamo... Il presidente della regione, Francesco Acquaroli, ha firmato oggi la nuova ordinanza. Da mercoledì 12 maggio all'interno dei comuni di Acqualagna e Petriano saranno limitati gli spostamenti ai soli casi di salute, studio, lavoro e comprovata necessità. I due territori infatti entreranno nella zona dell'arancione rafforzato. Dall'analisi epidemiologica effettuata sul territorio regionale e a seguito delle conferenze dei sindaci delle aree vaste è emerso che mentre il tasso regionale dei positivi su 100.000 abitanti non preoccupa, in quanto inferiore al limite previsto di 250, nei comuni di Acqualagna e Petriano il tasso dei positivi era tale da richiedere un'azione di intervento per tenere sotto controllo la situazione pandemica. Allo scopo quindi di contrastare il diffondersi del virus, dalla mezzanotte di mercoledì 12 maggio e fino alla mezzanotte del 18 maggio nei due comuni valgono tutte le regole della zona arancione. Dunque sarà vietato ogni spostamento all'interno degli stessi comuni, ma rimane sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. Occorrerà sempre far uso dell'autocertificazione riguardo alle cause significative dello spostamento da questi territori. Grazie. Grazie.